Seconda corsa, premio Lido di Roma, una prova per femmine di due anni. All'1 Biancaneve SM, al 2 Blanca Truppo, al 3 Breccia di No, al 4 Blaze Zack, al 5 Beautiful Model, al 6 Brasil Del Colle, al 7 BB Mail, seconda fila per l'8 Brumagalle, il 9 Betty Buporo, il 10 Big Band LF, l'11 Barracuda Jet. In chiusura, sostegno per il numero 1, Biancaneve SM. Ferdinando Minopoli alla guida, allineamento è ottimale. La macchina che va per staccare, confonde il passo e sbaglia Biancaneve SM. Allo stacco c'è lotta per il comando tra il numero 5 Beautiful Model e il 6 di Brasil Del Colle, e più indietro si ritrae Breccia di No, a precedere Big Band LF, filtrata dalla seconda fila. Lungo la piegata si adegua Brasil Del Colle, così rimane davanti con il numero 5 Beautiful Model, ha sbagliato BB Mail, si arriva così al paletto dei primi 400 metri di corsa, che viene completato nell'ordine del 30, un filo scarso. Beautiful Model al comando, Brasil Del Colle a inseguire, poi il numero 3 di Breccia di No, il 10 Big Band LF, l'11 Barracuda Jet. Così lungo la piegata di destra, con il plotone in fila indiana, ora ha splostato dalla corda Big Band LF, che cerca di risalire, e si porta al lato del numero 6 Brasil Del Colle, paletto di metà gara, in 1 e 2 appena abbondante, con davanti sempre Beautiful Model, poi la braliglia formata da Brasil Del Colle e Big Band LF, i cavalli che arrivano al chilometro, che viene percorso nell'ordine dell'1,18, con Big Band LF che ora attacca a fondo la leader Beautiful Model e tende a sopravanzarla prima della piegata. Operazione che si concreta quando mancano 400 metri dal traguardo, con sempre al comando ora Big Band LF, sbaglia intanto Brasil Del Colle, Big Band ne ha 3 di margine all'ingresso e addirittura d'arrivo, mentre prova a muovere dalla quarta posizione Barracuda Jet, che è la più fresca tra le inseguitrici, Big Band LF che ha acquisito vantaggio rassicurante, Big Band LF che si mantiene in grande evidenza, Big Band LF che viene a concludere nelle mani di Lucio Becchetti, il secondo posto per il numero 11 Barracuda Jet e il terzo per il numero 5 Beautiful Model. 2,4 appena abbondante la distanza per il numero 10 Big Band LF, una figlia di Ideale Lewis e No More LF con il signor Capasso al training e Vincenzo Palma ai colori, il tempo al chilometro nell'ordine dell'1.17.3.17.4, nelle immagini gli ultimi metri per Big Band LF che viene così a concludere, il 10 al primo posto davanti all'11 di Barracuda Jet e il 5 di Beautiful Model. che si servono un'estara per il numero 10 Soldato, il費ства στα